Devo fare una premessa che credo sia legittima e giusta, considerando che a Caserta mancavano due giocatori importanti e che un terzo probabilmente ha giocato non al massimo della condizione. È altrettanto vero che è una squadra che ha dimostrato durante il precampionato, malgrado le assenze, perché le assenze di Vitali e di Young sono assenze datate e quindi ha dimostrato anche comunque a prescindere di essere una squadra pronta e solida e malgrado io riconosco la loro assenza non vorrei sminuire la prestazione della squadra. Portiamo a casa questa partita indipendentemente da premessa fatta, portandoci a casa la solidità che abbiamo dimostrato in certi momenti. Devo anche dire che ho visto molti possessi di altruismo con giocatori pronti a fare un passaggio in più, questo significa fare un tiro aperto, prenderemo e treremo la fiducia dei piedi per terra e mettiamo una bandierina di solidità per dare continuità alla nostra difesa che tutto sommato non ha mai mollato eccetto sei punti regalati da un backdoor sulla rimessa piuttosto che una amnesia individuale, però come complessività abbiamo prodotto e partiamo da qui una difesa più che decente, più che discreta scusate. Sicuramente i miei giocatori hanno dato tutto quello che avevano da un punto di vista dell'energia fisica, giocare in set contro una squadra atletica come Roma sicuramente non è semplice, alcuni dei miei hanno anche probabilmente, probabilmente hanno patito un po' l'emozione della prima del campionato italiano, però io credo che ci sono stati alcuni momenti nei quali avremmo potuto essere un po' più efficaci. Le statistiche parlano abbastanza chiare, non possiamo pensare di vincere in trasferta avendo 24 palle perse e credo che questa sia stata una delle ragioni per cui non abbiamo potuto combattere fino alla fine per il risultato.